musica se tu fai... o... o... o palle fighe chi l'abbè non lo fai cavallo a Paraschela, lo vado a 80 metri Paraschela si è lisca, non di più fa falla, fa falla tutte le ridere al pallone come dicevo? lo vuoi? lo vuoi? go! adesso il pallone oh... tu devi finire a 100 anni il pallone e qui per un zoom eeeh vabbè direi proprio l'angellottiano proprio l'angellotto lo otto Anzaloo, dove vedevi quella cinghietta? Vedevi quella cinghietta? Scusi, io ho già quanti sti pannati? Ehi, metti la! Ticco! Niiiirend! Guardate, guardate! 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 Guardate, guardate! Fatti voi! Guardate! E' go! Guardate, guardate! I asящa gew 많은 Steelers! Guardate! 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 si chiama che tocca a corto per vinicius che va al destino non perdone poteva anche tirare comunque se la porta sul destro ma come sempre è incredibile non so dove arriva la sua forza la sua tecnica la sua velocità e un po' di ingenuità tra parte dei difensori del Napoli centrompestri che l'hanno mandato troppo vicino troppo dentro l'aria dopo gli diventa imprendibile conosce tutto da qui sembra una cavolata ma questo c'è un numero io avevo zambandista ma tu tieni due occhietti in cacca io avevo zambandista che stai in cacchierando per tutto io avevo zambandista io voglio hai visto quando tiene quando tiene i furti quando tiene i furti quando tiene i furti quando tiene i furti ti ti a ti faccia il coppia ma ti la puoi a rilas a rilas a rilas destra si 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 angelo ma piggio non scudliate vede che dici butti e tutti mia figlia no nella palma non sei fatta s'aggirto voi ammateri ma attento qui c'ha ti go go qui c'ha qui c'ha go go ti go 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 ti stanno ammateri mezz io andiamo oh giris guarda guarda qui c'ha mar andate Zambanghissà mi eserci, per dimmi la partita è colpa tua, dire la Zambanghissà, amico anno a 19. Torro si ha fatto una bella giornata a Riva di Mare. Poi Valverde, destro incredibile, che sbatte sulla traversa Beffa Meret, probabilmente sul ripallo, poi vedremo la dinamica finale. E' stato comune di Valverde per il 3 a 2 del Real Madrid. Che sta palla da mettere la palla la taglia in aria, il primo puttiere con me. La puttiere con me, 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 la puttiere con me. Se ti spingi da dietro. Voi, lo faccio in mano, lo faccio in mano... Tutti! Ti! Ti! A me! A me! A me! A me! Bina, no, difendi! Dico! Dico! No, è f***! E abbiamo visto, è pulito anche la nostra nazionale, e la cagliata che sta a fare con il calcio italiano. Da un allenatore del calcio italiano, ci ha regalato tre gol! Allora, chi sta sbagliando, non è sbagliata, non è sbagliata! ahhh! A vero! A vero! A vero! A vero! A vero! Chi è? No, va a fissare! In due tecane, va a fissare. Ehi, tu stai prendendo un pochino! Per poi, lo riusci! Tu, farò un nome! Ciao, ciao, ciao! Mi regalò la partita a pizzer, mi regalò! Mi regalò la partita a pizzer! Tu stai a scelotto, tu hai giù! No, io ho già in defensa saliente la situazione. Io ho già detto, a Cassia, che abbiamo uguale a 10 e 8 partite, perché tu eri... Tu stai a passare! Tu hai voluto regalare la partita! Tu hai voluto regalare la partita! Perché il zambanghissan non è uguale a tutte le partite del 90. Sei un grande allenatore perché questi dimetti cinque anni di contratto. Poi, se non fai la strunzata tu, la strunzata! Perché hai visto che la casimetta non può difendere! Pah! E piatta sempre colletta! L'offensive hai preso il gol! L'hai preso il gol! L'hai preso il gol! Ok? 5 anni, 5 anni! Sono 10 anni comprato! Per me 10 anni! Questa è una squadra! Sì, è un campione! Fotta! Che! Che! L'unica rammare è che quando il Real è calato noi eravamo... Questa partita per me l'abbiamo regalata! Ma ti spiego dove! La prima cosa è che purtroppo è un infortunio capitano e ci può stare! La seconda cosa, non lo sai, ci hanno fatto un bello slot! Un bello filoche! Poi voglio ricerciare quello che è purito! Dite quello che volete! Noi siamo senza giustizia! Noi giochiamo senza potere perché ho 3 e 2! Per me! Chi l'ha fatto su parana? Il pallone non l'ha pigliato! Per me quando ha accattato il mio potere poter me per la squadra e pallone! Ciao!